Mentre gli altri paesi sembrano aver imboccato, più o meno spediti, la via della ripresa economica, l'Italia arranca, fa fatica a tenere il passo. Un senso di sfiducia pervade ogni settore, nonostante il bel paese abbia tutte le capacità e le risorse per compiere un nuovo balzo in avanti. Puntando seriamente sulla ricerca, sulle enormi potenzialità delle nuove tecnologie e sulla proverbiale creatività degli italiani, si può invertire la rotta. Di questo ne è convinto Maximo Ibarra, amministratore delegato di Wind3, azienda leader in Italia della telefonia mobile. Ma un effettivo cambiamento non può prescindere da un cambio di mentalità e da un investimento deciso sulla formazione, ha detto durante i lavori di un incontro organizzato a Roccaraso dalla Winter School, il seminario di formazione politica per giovani politici e amministratori. La tecnologia ha ragione un fattore abilitante, ci sono diversi ecosistemi che in questo momento ci permettono dal punto di vista delle aziende, dal punto di vista della formazione, dal punto di vista delle infrastrutture, di poter fare un salto in avanti. È disponibile, si tratta di fare un cambio di passo anche dal punto di vista della mentalità, ma soprattutto occorre investire fortemente in formazione, formazione per quanto riguarda non soltanto l'università, ma anche le scuole elementari, le medie, i licei. Anche le aziende devono fare uno sforzo in più perché essendo queste tecnologie disponibili possono utilizzarli immediatamente per poter far conoscere i propri prodotti e i propri servizi a una platea mondiale, non soltanto più locale. In questo periodo il nuovo colosso della telefonia mobile sta lavorando a una serie di progetti di sviluppo del digitale in Italia. Una buona fetta di investimenti interesserà l'Abruzzo. Win3, che è appunto una nuova realtà nata dalla fusione di Win3, che è cominciato a operare sul mercato in maniera integrata dal mese di novembre del 2016, ha intenzione di investire circa 7 miliardi sull'intero territorio nazionale nei prossimi anni e l'Abruzzo rappresenta una delle regioni più importanti dove poter focalizzare questi investimenti. Maximo Ibarra è fortemente legato all'Abruzzo, ama questa terra dove tra l'altro trascorre le sue vacanze estive per tante buone ragioni. Ho mamma abruzzese di Sulmona, moglie abruzzese di Vasto, conosco molto bene tutta l'Abruzzo, non soltanto la parte di Sulmona, la Valle Peligna, la costa dei Trabocchi. Ho passato diversi anni qui, quindi legame molto forte.